Dottor Uddone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Immagina adesso una soluzione sempre più su misura per il cliente. Come si inquadra nell'ambito del nuovo ed attuale contesto generato dal Covid-19? Diciamo che in questo momento, in questi tre minuti, abbiamo visto alcuni fenomeni che meritano di essere intanto evidenziati. Intanto un tema che ha riguardato molto bene i clienti, ovvero il tema della connessione. I clienti hanno usato in maniera intensiva tutti gli strumenti digitali per rimanere connessi, per rimanere informati, per gestire anche le loro attività, in particolare anche quello che ci riguarda più vicino al tema delle polizze. Tant'è che anche noi siamo saliti, siamo passati a 2,35 milioni di clienti connessi che ci ha fatto fare un gran bel salto. Dall'altro lato anche la nostra rete che aveva già interpreso un percorso digitale ha accelerato in tutto questo periodo. È stato molto utile arrivare ad avere anche qua una piattaforma, strumenti anche in mobilità per poter operare con il cliente. Tutto questo l'abbiamo potuto fare mettendo in sicurezza le nostre strutture come ad esempio anche le agenzie che fin da subito sono rimaste sempre aperte ma soprattutto tutta la nostra rete poteva operare in sicurezza a distanza con il cliente e quindi anche qua poter concludere, guidare il cliente nelle proprie scelte di acquisto. Dall'altro lato questo nuovo modo di lavorare di tutti quanti ha aperto un'importante finestra, modalità di operare e di immaginare un domani di come potrebbe essere la nostra attività lavorativa. Non più sempre in ufficio, probabilmente un mix che non sappiamo bene ancora dove si collocherà ma tra ufficio e casa. Immagino adesso oggi si colloca esattamente in questo contesto, quindi è un prodotto che grazie a quella che è proprio la sua modularità e flessibilità si presta proprio a tutelare quelle che sono anche le nuove modalità di lavorare. Se la casa diventa un tema importante, la casa è connessa, la casa è vissuta in un altro modo e quindi ha bisogno anche del suo livello di protezione, sicuramente immagino adesso è proprio il prodotto giusto per questo tipo di situazione. Appunto tanta innovazione e flessibilità, una costante delle vostre strategie, una scelta che si è rivelata vincente in questo periodo quindi? Sì, una scelta che si è rivelata vincente in questo periodo perché immagino adesso lo lanciamo oggi ufficialmente ma già in commercio ed è già commercializzato già da alcuni mesi e abbiamo visto un progressivo ramp up del prodotto proprio anche in questi mesi dove come ho detto prima il tema della casa, dell'immaginare anche qua proprio una copertura che si potesse adattare a quelle che sono le esigenze del cliente è stato molto molto importante. Oggi la rete è riuscita a ingaggiare i propri clienti proprio su questi temi della flessibilità, della modularità, del fatto di poter avere anche la semplicità che tutto è governato da un solo contratto ma all'interno di questo contratto si può combinare un mondo di soluzioni che sono altamente personalizzate. Questo da un lato permette alla rete di mettere in gioco a disposizione del cliente la propria professionalità, dall'altra parte il cliente può immediatamente capire quali sono le cose che fanno per lui e che questo prodotto soprattutto lo può accompagnare in un percorso di vita perché si possono accendere o spegnere in funzione di quella che è la propria necessità le varie coperture. Quindi ti segue anche non soltanto nei momenti che caratterizzano la tua vita ma anche proprio nei percorsi che accrescono o diminuiscono quelle che sono le tue esigenze ai figli, ai cuccioli, allo stesso smart working perché c'è poi anche una parte di copertura che riguarda proprio anche la protezione per esempio dei dati che oggi lavorando da casa con connessioni personali è anche un elemento importante. Grazie tante. Grazie a voi, grazie mille.